Ma che stai facendo? Apro uno squarcio! Ah! Merda! Che roba è? È uno squarcio. Li aprivo sempre nella mia torre. Cos'è uno squarcio? È come... una finestra. Una finestra su un altro mondo. Di solito sono noiosi da morire. Un asciugamani di colore diverso, o tè al posto di caffè. Ma qualche volta... Qualche volta vedo qualcosa di incredibile. E lo porto qui. Ecco. Oh, Dio. Non è che hai anche un dirigibile, Matteo? Non credo. Però... c'è... c'è qualcosa. Io... Oh, no! Chiudilo. Ci... ci provo! Chiudilo! 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 Grazie.